Blasco Pulieri è l'agente immobiliare che racconta l'anima delle case in vendita, nello show di Real Time Casa a Prima Vista. Fa parte del trio di agenti di Roma, insieme a Corrado Sassu e Nadia Maier. Il programma è arrivato ormai alla terza stagione, con un successo increscendo. Sono tantissimi gli spettatori che si sono appassionati al format e che apprezzano i sei agenti, diventati ormai dei veri e propri personaggi. Chi è Blasco Pulieri? Blasco Pulieri è nato a Roma il 25 settembre 1978 e ha dunque 45 anni. È alto 178 centimetri e pesa 80 chili. Ha studiato alla Sapienza, dove si è laureato in sociologia. Il suo nome così particolare è un'idea della mamma, che l'ha scelto spulciando l'albero genealogico. Blasco ha anche un secondo nome, ossia Bartolmeo, con il diciassettesimo. Il papà faceva il regista cinematografico. E la passione per il cinema è stata trasferita anche allo stesso Blasco, che prima di imbarcarsi nella carriera da agente immobiliare ha tentato di sfondare come attore. Nel suo curriculum annovera diverse apparizioni in spot televisivi, l'ultimo con Enel nel 2018, film, serie tv e documentari. È stato anche presentatore di diversi programmi. La passione per lo sport. Appassionato di vela, è anche un istruttore. Ma Blasco ha passione anche per windsurf, calcio, sci, rugby, box, subacquea, equitazione e nuoto, si legge nel suo curriculum. La moglie e la figlia. Nel 2021 Blasco ha sposato la moglie Evita Comes, una scrittrice. I due sono genitori della piccola Viola, che ha 5 anni. Su Instagram ha 38.000 follower.